Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi sono veramente contento perché vi volevo annunciare che ho finalmente l'intro un intro fatta per bene, una sigla che ho trovato su un sito se volete sicuramente sotto i commenti saranno disattivati perché faccio vedere la faccia scusate intanto delle macchie sulla maglina ma non so mangiare comunque ho finalmente la sigla e la sigla è questa spero vi piaccia che sono veramente contento comunque niente questo era un video informativo durerà pochissimo, sono neanche a 40 secondi di registrazione e noi ci vediamo in un prossimo video ciao